è il mio amico è lo scozzese di nuovo ecco buonasera non è che ci può spostare così lei arriva a casa nostra scusi e lascelo fare tonight lady and gentlemen a very illusion a botch una bottiglia e botch and the tube what e vuoto and the botch and now lady and gentlemen sì a vera illusion look attentamente un'illusione cosa sarà oh Oh, è sparito per magia. Grazie. E poi si è partito sempre. E li fanno anche tu. Sì, con questo caldo. Perché è una bella notizia, una bella notizia. Sì, è un bellissimo notizia. Tonight, io spiego il trucco. Vuoi spiegare l'illusione? Spiego il trucco? Sì, è bellissimo. Ok. Il trucco è a velocità, molto veloce, a movimento. E per far vedere il trucco, io lo faccio in ralenti mode. In modo molto lento. Slow motion, ralenti mode. Ok? Guardate attentamente. Allora, stiamo facendo. Come l'hai preso questo? Questo chi è? A mal di pancia secondo me Senta ma quando finisci di fare queste... Ok... Buoni soldi giustamente Come va lei? Ho preso i soldi e se ne è scappato Thank you! Conferenti per questa bellissima notazione Ma io voglio un po' capire chi è quel personaggio là che sta contando i soldi? Cambiamolo un po' Trucco? Ma dove l'ha preso questo mago lei? Scusi eh Non so dove l'ho preso Però l'invitato è molto carino Cosa sta facendo? Sta contando i soldi Che fa? Venga un po' qua Venga un po' qua Sì 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 lei Sì sì Perché ho qualche sensazione Vediamo un po' No, non si copra Io l'ho vista Venga un po' Signor Biagioizzo Che cosa mi convini? Va Mi hanno pagato E' la prova che mi hanno pagato E' meglio che gliele ridai Vieni mago Noi ce ne andiamo che è meglio Va Grazie 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 Grazie